Siamo sullo spazio, raccontateci chi siete, quindi chi sono i Grandi Raga, come se doveste raccontare ad un alieno. Bene, noi siamo i Grandi Raga, siamo cinque umani che vivono nella Terra e facciamo musica. E musica è un miscuio di suoni, di vibrazioni, rumori, di onde sonore, di cose stupide tutte insieme, di molto bello che ci piace fare nella Terra. Può andare bene, penso. Noi non lo sapremo se potrà andare bene questa descrizione all'alieno, lo sapranno solo loro o ai marziani, che evidentemente sono quelli che ci sono piaciuti un po' di più. Allora, dicevamo, viaggio in astronave, ovviamente sullo spazio ci arriviamo in astronave, una canzone da ascoltare durante il viaggio, ininterrottamente, solo quella, sempre la stessa, quali scegliete ovviamente una vostra canzone? Allora, io molto probabilmente ascolterei il palazzo con più di 8000 piani, perché letteralmente parla di, diciamo, il raggiungimento della Luna e per forza bisogna andare nello spazio, quindi quella. Io ascolterei completamente inutile, perché attualmente è il mio brano preferito di Grandi Raga e... Io mi ascolterei Phobos, perché Phobos è una luna di Marte e, non so, è in tema. Io mi ascolterei voglia di fare, boh, perché mi piace, cioè, se tipo il viaggio nello spazio dura tipo 50 anni, non so dove andiamo, diciamo che un solo pezzo per 50 anni mi deve piacere veramente tanto. Phobos, perché, come ha detto prima il signor Bassista, è una luna di Marte, è un pezzo spaziale che parla dell'andare sullo spazio e tutto, quindi ascolterei quello a rota. Allora, ci avete detto le vostre canzoni, diciamo, preferite anche perché, come giustamente dicevi, se le avete ascoltate tutto il tempo, vi deve anche un po' piacere. E ovviamente siamo al live rock, live vi vedremo fra un po', ci manca la parte un po' rock. Qual è il vostro ricordo più rock come band? Probabilmente quando abbiamo iniziato a fare, a fare completamente inutile, probabilmente. Per me è quello, il momento più yeah. Personale. Personale o collettivo? In generale è più il tempo, cioè è un momento più rock e il senso magari è più collettivo, guardato, più affetto. Eh, no, sono tanti, non rispondo, io rispondo a qualcun altro, io ne mento troppi. Lui non faceva lettere. Signor Lettere. Sai scherzi a parlare, guarda, se ne avendo da ieri. Il momento più rock è... Dillo, quando siamo andati a letto tutti e cinque insieme. Sì, dai, dillo. È stato sì. Beh, è stato un bel momento quando siamo andati a letto tutti e cinque insieme, però non è, credo, il momento più rock della band. Il momento più rock della band penso l'abbiamo raggiunto a Rignano Rock. E a Rignano Rock abbiamo, insomma, insomma, abbiamo mandato a fanculo veramente tante persone. Si potrebbe dire a fanculo? Sì. Ok. E, insomma, questo può andar bene come il momento più rock. Siamo delle persone abbastanza tranquille, realmente. Sì, in realtà sì. Vai. Allora, ora che abbiamo scelto il momento rock, passiamo a uno degli aneddoti che è rimasto nella memoria collettiva a riferimento al primo allunaggio, che è la famosa foto del primo allunaggio, ok? Tutti abbiamo in mente, bandierina, posizionata, prima impronta. Pensate, siamo molto social, cioè questa intervista sferata nei nostri social, quindi subito ci viene da pensare a una foto, un fermo immagine. Qual è la vostra foto che associate al momento in cui avete capito che potevate farcela come band e che comunque sia quel sogno poteva un po' concretizzarsi? Allora, una volta avevamo fatto un live, uno dei nostri, non primi live, uno dei nostri primi live più grossi a una scuola molto grande ad Arezzo, nella nostra città, dove c'era davvero un fottile di persone e niente, c'è una foto, non mi ricordo che ce l'ha fatta, dietro tutta la folla con un putiferio di persone e noi che si suonava ho detto, oh, ganso! Ho anche noi in mutande che ci indichiamo davanti allo studio, anche quello devo ammettere che sarebbe bello vederlo nell'immagine ora. Un bel gatto, anche un culo nudo. Sì, e un gattino, e un gattino carino. Noi possiamo attivarci sul gattino carino, se volete, possiamo provarci. Un gattino carino. Gattino, ok, colore abbiamo una preferenza... Grigio. Grigio. Grigio, occhiale, sincura, grigio. Pelo lungo, quindi occhi arancioni, perfetto. Ci attiveremo e segnate, per favore, grazie. Allora, ci avete raccontato un po' di voi, però parliamo anche un po' di musica. Per capire chi siete abbiamo bisogno di sapere qual è la canzone che ascoltate mentre piangete, quella che ascoltate mentre ridete, quella che ascoltate mentre fate l'amore perché noi siamo romantici e perché sesso è brutto. Un attimo, quali erano? Aspetta, era quando ridete, quando piangete e quando facciamo l'amore. Allora, quando rido mi ascolto Splash di Colapesce di Martino. Quando sono triste mi ascolto... Non è una canzone precisa, ne ho tante, ma in generale quando piango ascolto Chiello. Quindi sì. E quando faccio l'amore via la Santissima Trinità di Postnebbia. No, 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 che canzone è triste. No, 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 che costa. Allora, canzone triste, Love Paranoia di Tame Impala. E canzone mentre rido, a me mi piace il blues di Pino Daniele. E non faccio sesso. Allora, una canzone... Una canzone che ascolto e mi fa prendere bene è Pop Porno. La canzone che mi fa piangere... L'unica canzone che riuscivo a farmi piangere è The Universal, The Blair. Qual era l'altra? E poi fai sesso. Ah, quando faccio sesso. E... Capisci perché è difficile? Capisci perché è difficilissima? E la stessa? Pensiamo che avevo venuto l'altro pugnettino. E questo è per un po' altro. Dai, we were rocking. Thunderstruck degli ACDC. Allora, una canzone che mi fa piangere è Viale Santissima Trinità di Postnebbia. Una canzone che mi diverte è Ma che mania di Pino Daniele. E poi non riesco ad ascoltare musica mentre faccio sesso, è terribile. Quando sono triste ascolto Rai di Calcutta. E quando sono felice... La finestra di Tombino. E quando... Non scopo. Allora, prima di lasciarvi andare sul palco perché in realtà mancano pochi minuti, non so se lo sapete, non vi volevo mettere ansia, però ultima domanda velocissima. Fra 20 anni la vostra capsula viene aperta e le persone che l'aprono cercano il vostro nome online. Qual è il titolo del primo articolo che trovano? Suicida a 27 anni. I grandi raga vincono l'Arezzo Wave 2023. E diventano famosi in Italia e tutta la Toscana, cosa che non è successa. Mai stata scritta. Probabilmente mi trovano nella rosa del neri calcio Pulcini 2003. Mi trovano in un volantino di teatro di quando avevo 8 anni. Via vai, per esattezza. Credo... Sì, i grandi raga vincono l'Arezzo Wave. E basta, perché c'è solo quello. Bo, triste. Quindi ci fermiamo qui, neanche i grandi raga partecipano al Live Rock 2020 qua, cioè proprio siamo all'anno prima praticamente. Ok, perfetto. Allora, io direi che vi ringrazio, vi lascio andare al vostro live. E ultima domanda, che è quella che chiediamo sempre a tutti, non so se lo sapete, ma quando inizia il concerto, i concerti qui al Live Rock, ci sono due persone che dopo sentirete che sul palco danno un buonasera acqua viva. Quindi noi vi chiediamo di fare un buonasera al Live Rock Festival. Un vostro saluto al Live Rock Festival prima di salutarvi e prima di darvi un bocca al lupo prima di salire sul palco. Quindi un saluto al Live Rock. Ciao!